Ciao amici, a partire da oggi Adagio Italia sarà il distributore ufficiale di Mac. Da oggi ci faremo carico di tutte le vostre necessità. Potete persino andare a vedere il nostro sito internet adagioitalia.it Oltre ad avere il team Adagio disponibile, potete avere anche una intranet dove troverete tutta l'offerta dei prodotti Adagio Italia. Basta fare click per avere in poco tempo i prodotti desiderati. In caso di difficoltà potete chiamare il numero di back office 800-782-910 disponibile dalle 10 alle 18. Adagio vi offre una spedizione gratuita per tutti gli ordini a partire dai 300 euro. Al di sotto di questo importo verrà applicato un importo perfettario di 7,5 euro. Tutte le spedizioni vengono effettuate con DHL. Inoltre vantiamo di uno dei migliori service center d'Italia, che è l'EMI di Torino. Potete inviare tutte le vostre richieste in intervento tecnico sia per i prodotti in garanzia che no. Anche gli utenti finali possono contattare l'EMI per avere assistenza sui prodotti. Adagio si prenderà cura dei prodotti ancora in venduti nei vostri negozi. Così come ci faremo carico dei prodotti ancora in garanzia venduti dal distributore precedente. Potete inviare qualsiasi domanda al nostro tecnico specializzato e ingegnere Hakeguan Sempere alla mail qua sotto. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi dubbio. Ciao!